Mentre stavo facendo un giro in kayak dalle parti del porto di Gallipoli partendo da Rivabella incontro questa che è un rarissimo esemplare di barca biodegradabile fatta col famoso ferro biodegradabile che basta che resti in acqua per tanti anni per appunto diventare uno scoglio naturale si chiama Brokthor e credo che sia in qui da un bel po' di tempo ma non vi preoccupate è bio si scioglie col tempo ragazzi ed ecco qua mentre si parla di inquinamento dei mari della plastica e al ferro eh al ferro chi ci pensa meno male che questo è biodegradabile